A 70 anni dalla loro fondazione, le ACLI sono chiamate a rispondere a chi bussa la loro porta con nuove qualificate risposte. Il Papa lo ricorda ai 7.000 aderenti all'organizzazione e in aula a Paolo VI, ai quali chiede proposte alternative eque e solidali dinanzi alle diseguaglianze, dinanzi all'estendersi della precarietà, del lavoro nero, del ricatto malavitoso che toglie dignità. Francesco si sofferma in particolare sul dio denaro, oggi messo al centro dell'economia e che genera la cultura dello scarto. A pagare il prezzo più alto sono i bambini, gli anziani con le loro pensioni miserabili e i giovani. Quattro gli accenti che pone. Il primo è sul lavoro libero, cioè senza oppressione e sfruttamento. Il lavoro creativo che possa dare ai giovani la possibilità di esprimersi senza tarpagli leali. Il lavoro partecipativo, secondo una logica relazionale e non egoistica, ed infine quello solidale per offrire a chi ha perso il lavoro nuove opportunità. Papa Francesco ricorda anche la presenza delle ACLI fuori dall'Italia ed invita a sostenere i giovani che cercano altrove la loro realizzazione. Sottolinea poi la loro ispirazione cristiana e la fedeltà ai poveri e mette in luce il tema dell'impoverimento improvviso. È un'importante battaglia culturale, quella di considerare il welfare un'infrastruttura dello sviluppo e non un costo. Voi potete fare da coordinamento e da motore dell'Allianza Nuova Contra la Povertà, che si propone di sviluppare un piano nazionale per il lavoro decente e dignitoso. Grazie. 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 Grazie.